Ciao a tutti, nel video di oggi vi voglio far vedere una funzione e un comando di Lightboard che mi ha dato una mano a fare un progetto che stavo eseguendo. Questo progetto consisteva in un porta coltelli, poi all'ultimo vi farò vedere appunto il materiale che ho usato e il lavoro finito, però quello che mi interessa è portare a conoscenza di questa funzione che non è molto conosciuta, è una funzione che ottimizza i percorsi tracciati eccetera eccetera e mi è tornata molto utile. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Come vedete sul piano di lavoro ho tre immagini. Queste immagini sono delle sagome dei coltelli che avevo preso per il mio hobby, che è uno dei miei hobby anche la cucina. Vabbè, comunque avevo questi coltelli, mi piaceva fare un porta coltelli da mettere in cucina e averli a portata di mano e ho pensato come farlo, non ho visto delle cose diciamo dei progetti che mi piacessero e ho cercato di fare uno completamente da zero. E quindi dopo vi farò vedere anche il progetto e vi farò vedere però come ho fatto a realizzare delle sagome partendo da queste fotografie. Ne farò solamente una perché poi il resto le ho fatte praticamente nello nello stesso modo e partirò da questo che è il coltello santoku che è un tipo particolare coltello, chi si intende un po' di cucina lo sa. Allora sono partito con una scansione fatta con la stampante multifunzione del cartone che conteneva quello. Di quello che avete visto che era sulla sinistra non avevo più il cartone ho fatto la scansione della lama pure semplice e poi ho fatto più o meno la stessa cosa. Allora cosa faccio? Vado normalmente a convertire in tracciato questa immagine quindi vado in traccia immagine e vado a cercare di ottimizzarmela per poterla lavorare ecco vedete che già così è già abbastanza diciamo discreta guardi mi avvicino un attimino è già abbastanza discreta forse riesco a prenderla proviamo ok do l'ok sì ci dovremmo quasi essere poi vado a separare il tutto perché mi interessa solamente la sagoma della lama ok in questo modo qua allora non l'ho separato selezioniamo tutto è separato quindi devo prendere solo questa e la vado a spostare in questo modo tutto il resto lo cancello non mi interessa più. A questo punto se io vado a praticamente ingrandire perché poi dopo vabbè ora mi ingrandisco per farvi vedere un pochettino le cose vedete che già fatto abbastanza bene se però vado a vederlo con i nodi vedete che tutto un nodo vedete ci sono tantissimi nodi perché perché abbastanza frastagliato se io vado a ingrandirlo ancora vedete che la lama proprio è a queste imperfezioni come se fosse già stata utilizzata molte anche usata ci sono tutte queste imperfezioni che logicamente faranno fare delle lavorazioni non perfette al laser e non mi piaceva quindi cosa vado a fare vado a fare l'ottimizzazione di questo percorso l'ottimizzazione di questo percorso si va una volta selezionato il file in modifica e ottimizza forme selezionate si apre questa finestrina come vedete qui mi fa vedere tutti i nodi colorati di marron che sono i nodi appunto che servono per il cambio di direzione del tracciato ci sono queste tre cursori il primo è forme di origine lisce adatta forme alle linee e adatta forma gli archi chiudo un attimo perché voglio farvi vedere da più da vicino come lavora questo questo strumento quindi arrivato qua ingrandisco un pochettino ancora lo vedrò con una posizione con una porzione e poi arrivato a fare modifica e ottimizza adesso io comincio con andare a con questa secondo cursore che adatta forme alle linee perché voglio andare ad accercare a cercare di vedete come io più sposto e più mi va a a togliere tanti nodi abbastanza nodi prima ero in questa situazione all'inizio vedete e adesso me ne va a togliere parecchi e quindi sicuramente con un lavoro preso bene e faccio in questo modo dopo vado su quello sotto lo apro ancora un pochino di più perché vedo che qua ci sono ancora delle grosse imperfezioni quindi vado a cercare di andare a togliere il massimo dei nodi che posso farlo poi vado a fare anche l'altro che me lo va a perfezionare infine vado a selezionare anche forme di origine liscia e vedete che mi diminuiscono ancora me va a mettere veramente pochi di nodi e direi che così potremmo essere contenti se io vado a vedere ho pochi nodi che effettivamente solo dove cambia direzione il percorso e quindi il mio laser non dovrà fare anche degli piccolissimi spostamenti eccetera eccetera e il lavoro mi verrà preciso e perfetto ecco questo era il comando che volevo farvi vedere con questo video perché lo ritengo veramente veramente interessante poi adesso se volete vi faccio vedere anche il progetto che ho fatto questo che vedete è il praticamente uno slideshow con tutte le cose che ho utilizzato ci sono dei piallacci di legno ci sono delle calamite poi ci sono le forme che ho tagliato utilizzando quei tagli lì e e poi i supporti sopra in alto e in basso vi faccio vedere anche il progetto che ho fatto proprio sul piano di lavoro di lightburn ecco quello che vedete in questo momento è con i pezzi come li ho disegnati quindi praticamente o queste che ho fatto la parte in alto con due due triangoli stondati e col taglio per un coltellino che in mezzo che avete visto forse nel nello slide show e poi ho fatto questi che sono gli incastri ce n'è questo presente con l'esterno qui dove si va appoggiare diciamo la parte fra lama e manico e mi si va appoggiare poi la lama sarà trattenuta dalla calamita e sotto c'è il piallaccio questa invece va sotto quindi subito sotto perché ci sono gli incastri perché sono tutti diversi dove vado a incastrare queste parti del delle tre dei tre multistrati che mi servono per andare a fare una certa sicurezza perché se lascio la lama anche un poco poco attaccata se qualcuno ci passa inavvertita la mano sono coltelli affilatissimi che effettivamente fanno male quindi ho pensato di farci questa protezione in modo che anche se qualcuno inavvertitamente va a strusciare contro quella quella il ceppo porta coltelli non si va a tagliare e perché è importante anche fare attenzione a queste cose questa è la base e vedete che sono ecco non è molto grande ho dovuto farlo contenuto per non occupare tanto spazio sul piano di lavoro della cucina e queste sono le forme del diciamo dei piallacci che ho incollato dietro alle forme alle sagome per per i coltelli vi faccio vedere il la realizzazione finita con le foto e spero vi piaccia mi è piaciuta mi sono anche divertito molto a disegnarla è un progetto veramente originale perché l'ho fatto ho fatto tutto io di sana pianta e vabbè mi auguro che piaccia anche a voi come mi auguro che vi piaccia anche questo video se vi è piaciuto il video non tanto per il mio porta coltelli quanto per quella quella funzione di light bar che non è molto molto conosciuta e anche poco usata però è importante quando si fanno progetti di questo genere con utilizzando delle foto utilizzando delle cose del genere è abbastanza utile dicevo se vi è piaciuto questo video vi chiedo un like se non siete iscritti a cari e iscrivetevi al canale forza ragazzi che voglio arrivare almeno al numero tondo 5.000 mi sono prefissato di arrivarci entro la fine di giugno primi di luglio speriamo di riuscirci sono ambizioso lo so e ci rivediamo ai prossimi video ciao a tutti e alla prossima